benvenuti a questa nuova puntata delle pillole del prof la poesia non è un dove ma un come esistono tuttavia luoghi che hanno una capacità di emanare emozioni e persone in grado di trasfigurarle in opere d'arte come sirmione e scrittore americano ezer pound di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo della scomparsa e sul quale ho scritto il 10 agosto 2022 sulla pagina culturale giornale di brescia ma andiamo per ordine ezer pound e sirmione una amore a prima vista destinato a durare praticamente 50 anni arriva sirmione nella tarda primavera del 10 con olivia e dority shakespeare rimane subito affascinato dal luogo perché fonde tante cose la sua passione per catullo l'antichità classica che va studiato all'università la passione per il mondo medievale e non a caso qui correggerà il suo testo spirito romanzo in cui praticamente se una specie di saggio ma qualcosa di più qualcosa di esplosivo per rilanciare la poesia medievale e qui nascerà l'idilio che lo porterà qualche anno dopo a sposare dorothy quindi sirmione diventa il cuore degli affetti artistici emozionali di questo grande scrittore statunitense pound tornerà poi a sirmione nell 11 nel 13 solo la guerra riuscirà a interrompere questo grande amore ma temporaneamente nel 20 è già a sirmione e qui bombarda tempesta di lettere james joyce scrittore irlandese i due si sono conosciuti si sono amici da dieci anni ma corrispondenti di penna non si sono mai conosciuti di persona pound ha promosso in maniera vigorosa la sua maniera gente di dublino e ritratto dell'artista da giovane pound da qualche anno ha nel cassetto l'ulisse ma l'ulisse stenta a prendere una forma definitiva pound insiste per far venire joyce a sirmione a fare il punto della carriera di quello che per pound è come vedremo sarà un grandissimo artista non sarà un caso che dopo questa visita joyce deciderà di lasciare trieste la città in cui ha vissuto per tanti anni città in cui si era allontanato durante la prima guerra mondiale perché suddito suddito di uno stato straniero ricordiamo che trieste austriaca fino al 1918 e nel tornare a trieste joyce non si era trovato più a suo agio l'incantesimo si era rotto joyce raggiunge pound a sirmione in una maniera che vorrebbe dire quasi comica con aspetti fortemente comici intanto joyce non ama viaggiare a paura temporale metereopatico non ama in generale il viaggio pound insiste scrive a sirmione io sono a casa mia pound gli scrive dall'hotel eden l'hotel dove spesso soggiornerà pound a sirmione sono a casa mia qui tutto bellissimo faccio da garante io e catullo sulla bellezza del luogo troverà poi una sistemazione per joyce e il figlio 15 anni giorgio all'hotel pace questo incontro il fatto sembra pesare su questo incontro joyce in partenza da trieste da prima vede annullato un primo treno causa incidente poi per uno di quei tanti scioperi che funesteranno l'italia del primo dopoguerra nel frattempo pound riesce ad incontrare elliot a verona in realtà pound avrebbe desirato incontrare elliot e joyce tutti insieme ma per motivi organizzativi non riesce sta di fatto che l'otto giugno james joyce arriva finalmente a sirmione i due passeranno un periodo molto intenso e da questo questa vacanza sirmionese joyce uscirà con due certezze abbandonare trieste per parigi e l'ulisse come qualcosa di più che un'opera in fieri gli anni avanzano pound continuerà a frequentare molto l'italia e nel frattempo frequenterà anche si avvicinerà molto al pensiero mussoliniano perché sarà tra quelli che vedranno nel pensiero del dittatore la famosa terza via tra in campo economico tra il comunismo e il capitalismo ricordiamo che pound nella critica al capitalismo non era da solo negli stessi stati uniti nel 39 uscirà ad esempio furore di steinberg un atto di accusa ben preciso contro un ben preciso modo di prodotto un metodo di produzione gli anni si avvicinano gli anni bui della guerra pound rimarrà di un certo tipo di idee in campo politico economico e durante la repubblica di serò soggiornerà accertato il soggiorno a villa portesina sul lago di garda seguiranno poi anni purgatoriali come la prigionia a pisa e poi il trasferimento negli stati uniti e il periodo a santa elisabeth liberato da santa elisabeth raggiungerà in italia la figlia mary de rachevils che aveva avuto da una relazione con la violinista e violinista olga rouge e in italia poi si spegnerà 50 anni fa ormai e con tutto questo pound ancora nei 59 troverà la forza la voglia il piacere di fare un ultimo viaggio uno degli ultimi viaggi sul lago di garda e visiterà anche la nostra città brescia tra le persone che pound era riuscito a far venire a sirmione nel corso degli anni ci sarà anche ernest emingway nel 23 ma poi emingway e pound come tanti altri in quella tempesta che furono gli anni trenta tempeste ideologica umana cambia perdere si perderanno per strada ma pound con la sua presenza sirmione avrà segnato un periodo eccezionale per la letteratura mondiale detto questo vi saluto e vi ricordo ogni volta che la nostra tradizione siete voi ogni giorno